Sono 23 punti in classifica del Limolese, bottino che ad oggi consentirebbe ai rosso-blu di partecipare ai play-out. La sconfitta incassata domenica al Galli col Cesena ha posto fine al filotto di una vittoria seguita da tre pareggi consecutivi. Tanti complimenti ricevuti anche contro i bianconeri, ma nessun punto raccolto dal campo, come spiega il capitano Carini. Ci sentiamo dire spesso bravi, però arrivati a questo punto bisogna stringere, perché le partite sono sempre meno, i punti a disposizione sono sempre meno e ogni opportunità è da sfruttare. Una squadra che si deve salvare, sì dopo ci si può attaccare agli episodi, però non può perdere 4-0 in casa. È un peccato perché penso che il risultato non rispecchi magari l'andamento della partita. Sabato alle 20.45 tra le Muramiche i Romagnoli affronteranno la Cenerentola a Fanu, una sfida che per Tentoni e i compagni vale forse mezza stagione. Quei due gol ravvicinati ci hanno un po' tagliato le gambe, anche se dobbiamo reagire, perché eravamo stati in grado di metterli in difficoltà, dovevamo farlo di nuovo, anche sotto di due gol, anche se non è facile. Però il risultato è questo, dobbiamo guardare avanti, sabato c'è già un altro scontro diretto vitale.